Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi voglio parlarvi dell'HTD Tennis, un orologio che mi è piaciuto particolarmente perché è colorato, perché è estivo, perché lo si può indossare senza particolari problemi. È un homage? Sì, cosa vuol dire homage? Che homage è un'altra referenza, Rolex, Oyster, Perpetual, diciamo così. Ebbene, è un problema? Per me no. Per me no perché è un omaggio, non è una copia, non è un uno a uno, un clone, un qualcosa dove lo faccio uguale e poi ci scrivo Still Dive a Disdive. Quelli per me sono orologi che possono rimanere a casa loro. Questo è un qualcosa di diverso, ha una sua idea tra l'altro, molto caratterizzante, soprattutto in queste referenze che sono quelle più sportive. Io ho deciso di portare quella che è denominata Terra Rossa. Invece la versione chic, ebbene, lì secondo me si è andati un po' troppo all'omaggio e di conseguenza mi fa meno piacere anche se tra l'altro è più articolata perché ad esempio ha gli indici applicati sul quadrante, quindi un aspetto in più. Qui invece l'aspetto in più che voglio affrontare da subito è dovuto al 15, 30 e 30 che troviamo sul quadrante, che sono elementi che caratterizzano il tennis. Tennis che ormai impazza grazie al fatto che il numero uno al mondo attuale è Yannick Sinner, quindi un ragazzo italiano, tra l'altro io seguo anche il tennis e mi piace molto. Mi racconterò all'interno del video la scelta che ha fatto HTD per mettere comunque il quadrante in questa impostazione e da dove deriva, tra l'altro, questa cosa del punteggio, quindi C30, 40 invece che 45, come probabilmente la logica ci porterebbe a pensare, prendendo alcune delle teorie più diffuse che ho trovato. Ora però, mi raccomando, fate un bel like e iscrivetevi al canale, ragazzi, è un modo gratuito per sostenere questo contenuto e tutti quelli che pubblico abitualmente su YouTube, TikTok, Instagram, sito, insomma ovunque online. Mi raccomando. Ora guardiamo da vicino questo HTD Tennis e poi torniamo qui per fare ancora qualche considerazione e affrontare ancora una volta quelle che sono le polemiche che sono andate attorno a questo orologio. HTD Tennis. Guardiamo da vicino l'orologio partendo da quella che è la scatola, questa scatola che va già a richiamare il mondo del tennis. Trovo che sia molto interessante e intelligente l'idea di realizzarla così piccola. Ovviamente racchette, il font tennis e troviamo questa piccola scatoletta molto carina. all'interno, ma non mancano le istruzioni, è quella che è la card di garanzia con la data di acquisto. Si apre in modo, secondo me, un po' anomalo, ovvero da questo lato. Mi sarei immaginato qualcosa di diverso, però magari colpa mia. E dentro, oddio, non c'è l'orologio. Ma perché ce l'ho già in mano? Ora lo guardiamo da vicino. Partiamo col dire che ci sono quattro referenze di tennis. Abbiamo quelle sport, dove troviamo una verde, un'arancione ed una blu ed un'altra chic, invece blu, con indici applicati. Devo dirvi la verità, non ho capito molto questa scelta perché tre hanno proprio una colorazione ben definita, dei dettagli particolari, unici. La chic, invece, trovo che assomiglia un po' troppo a casa Rolex e lo vedremo anche nel dettaglio perché vi voglio far vedere un po' da vicino come questa referenza, comunque assomigli a degli orologi di casa Rolex. Cassa Oyster che abbiamo potuto ammirare su tanti orologi come l'Oyster Perpetual. Ed ecoli visti da vicino. Ovviamente il colpo d'occhio non può che essere somigliante. Vediamo come entrambi abbiano questo stile. Se vogliamo anche la corona, nonostante sia leggermente più piccola, sia davvero simile a quella di casa Rolex. Io per comodità visto che non posso, come immaginate, riformirmi per una recensione in casa Rolex così al volo, ho usato il mio Rolex Air King, ma ci sono altre referenze di Rolex che possono sicuramente ricordare questa cassa. Ci sono delle differenze e non da poco. Qui possiamo vedere come le anse siano normali, mentre in qua possiamo vedere come ci sia questa flessione che va a creare del movimento per poi arrivare alla giuntura della prima maglia del bracciale tipo Oyster. Abbiamo poi un ulteriore elemento. Vedete come la lunetta sia, ecco in questo momento si può vedere molto bene, all'opposto di quello del classico Rolex dove invece troviamo una bombatura. Qui è stato fatto diciamo così un lavoro in riduzione dove quindi tutta la lunetta è come se fosse scavata rispetto invece a Rolex dove invece è bombata. Poi il risultato finale, devo dirvi che anche al polso, è comunque diverso. Abbiamo 37 mm di diametro, una distanza da AnSans di 44 mm e quello che è uno spessore di soli 9 mm, davvero incredibile, considerando che siamo di fronte ad un orologio comunque resistente fino a 100 metri di profondità e che quindi si può indossare comodamente al mare senza avere particolari problemi o timori. Ed ecco il mio Rolex Air King Vintage. Sicuramente c'è un richiamo, ci sono elementi che vanno a ricordarlo, però mi preme sottolineare una cosa, soprattutto d'estate quando abbiamo magari magliette polo, maniche corte, avere un orologio che non ci spaventiamo di indossare con disimpoltura non è mai un male. E quindi qui sì, siamo di fronte all'omaggio, perché no? Sì, siamo di fronte all'omaggio, all'omaggio non alla copia. Ed essendo un omaggio ci sta anche che ci siano degli elementi che si possono trovare comuni. Guardate però ad esempio la cassa, le casse di una e dell'altro, guardiamola in queste posizioni, guardate come anche qua ci sia tutta bombatura, qui invece teniamo una scelta particolare nell'avere una parte tutta lucida e molto molto allungata, mentre qua le anse sono decisamente più abbondanti, così come la parte anche di spessore che è decisamente diversa, ma vedete come anche il profilo sia davvero completamente diverso. Il colpo d'occhio magari può tradire, ma ci sono tanti elementi che vanno a differenziare i due orologi, così come la scelta delle anse sopraccitato e di altri elementi. Sicuramente è un orologio che omaggia la cassa iconica di Rolex, ma non la va a ricopiare pari pari, fornendo qualcosa che si può trovare in commercio anche da altri. Abbiamo una bella corona, ovviamente, a vite. Potete vedere come non ci sono elementi da sottolineare e c'è un aspetto che mi è piaciuto molto, che è questa texture HTD che troviamo sulla corona, tra l'altro il grip è davvero molto buono, abbiamo visto prima alcuni dettagli già della cassa facendo il paragone con Rolex e possiamo vedere tra l'altro il bracciale, il bracciale è fatto molto molto bene, con piccoli dettagli come di nuovo qui la parte incisa HTD con alcuni riferimenti, il logo HTD che troviamo anche qui, tutta satinata con doppio pulsante per andare ad aprirlo. Una tipologia di bracciale a tre componenti, che è molto simile ovviamente a quello di casa Rolex, inutile non dirlo o nasconderlo, ma che in questo orologio sta davvero particolarmente bene. Sicuramente può essere anche simpatico a giocare magari utilizzando un nato o un'altra tipologia di cinturino per alternarlo rispetto a questo bracciale. Così come si trovavano su tanti orologi di casa Rolex gli sticker, eccolo che anche in questo HTD, così come i primissimi, troviamo uno sticker ovvero Tennis Ref T23 S01 che va a coprire il fondello. Al momento decido di lasciarlo, poi non so se lo andrà a togliere. Abbiamo un fondello comunque avvitato che va a proteggere un calibro premium di casa miota, ovvero il movimento 90-39 con 28.800 alternanza e ora, fermo macchina e carica manuale. Abbiamo in questo movimento la peculiarità di essere molto sottile, questo ha permesso sicuramente a HTD la scelta di questo movimento in quanto utile per riuscire poi ad offrire un orologio che fosse sottile solo 9 mm. Il vetro zaffero è davvero ottimo, abbiamo un doppio trattamento antiriflesso interno e esterno che permette di avere davvero un orologio leggibile in qualsiasi condizione. Questo è sicuramente un aspetto sempre importante da sottolineare. All'interno dell'orologio, su tutte le componenti che abbiamo visto da vicino, troviamo Superluminova BGW9 Extra 8 che permette di avere un effetto wow in assenza di luce come potete vedere in questo video accelerato, dove HTD non ha badato a spese per offrire un orologio che fosse davvero molto ben leggibile in assenza di luce. Guardando più da vicino il quadrato importante possiamo notare alcuni elementi come il logo HTD stampato ore 12, quello tennis della collezione con questo bel font se vogliamo dare il chiamo un po' vintage e particolare a ore 6 e poi alcuni elementi che hanno fatto storcere il naso a molti appassionati, ovvero i riferimenti al punteggio del tennis. Partiamo dalle basi. Una partita di tennis è composta da punti, poi da game e da set. Per raggiudicarsi un set bisogna conquistare almeno 6 game con un margine di 2 di vantaggio sull'avversario mentre per vincere un game bisogna conquistare dei punti che sono 15, 30 e 40 e poi quello decisivo per vincere il game. Allora perché abbiamo 15, 30 e 40 invece che 45? Ci sono diverse spiegazioni su questo, una di queste è ad esempio risalente pensate al prima del torneo di Wimbledon del 1887. Questo riferimento fa parte della Francia medievale e in un testo di Carlo di Valois Orland del 1435 c'è un riferimento proprio al punteggio del tennis mentre le prime teorie sul 15 risalgono al 1555. Un'ipotesi interessante e curiosa è quella che riguarda gli orologi. Si racconta che in passato i punti tennistici si assegnavano spostando la lancetta avanti di 15 minuti, 15, 30 e poi 40, non 45, perché in caso di parità a 45 uno spostamento di 15 minuti sarebbe valsa la vittoria e quindi si optò per decretare il terzo punto come 40 e non 45 permettendo la lancetta di avere più margine in caso di parità. Inoltre un'altra teoria, quella legata a jeu de pont, un gioco antico nato in Francia nel XIII secolo, riguarda questo gioco che si faceva a mano e non con la racchetta e il campo misurava 90 piedi, 45 per lato, quindi una cosa molto diversa e quando il battitore segnava un punto si spostava in avanti di 15 piedi, poi 30, arrivando agli ultimi 10. Un gioco molto antico per il quale probabilmente anche qui ci potrebbe essere un riferimento al gioco del tennis. HTD ha così scelto di premiare e citare il tennis attraverso i punteggi che possiamo vedere a ore 3, 6 e 9, dove troviamo 50, 30, 30. Questo riferimento al 30 ha destabilizzato molti perché in teoria il 40 andrebbe posizionato nell'indice precedente. Invece è stato scelto per dare simmetria e geometria al quadrante di lasciarlo al corrispettivo delle ore 9. Devo dire la verità, io forse avrei apprezzato addirittura che fosse presente proprio a ore 8, dando un quadrante sì asimmetrico, particolare, ma con un fascino e sicuramente una storia alle sue spalle da raccontare. Un elemento che avrei apprezzato anche per quanto riguarda un po' di innovazione rispetto a bracciale oyster classico sarebbe stata la presenza dello sgancio rapido che avrei apprezzato particolarmente. C'era anche il posto per metterlo senza particolari problemi, visto lo spazietto che c'è per i pin delle ansie, non sarebbe stato male. Una cosa che ho apprezzato molto da parte di HTD è la richiesta nel momento in cui si acquista l'orologio di richiedere all'acquirente quella che è la misura del proprio polso e così il mio orologio è arrivato già a misura. Non è un dettaglio da poco, quando si apre un orologio e si ha sempre la voglia di indossarlo subito, tante volte dobbiamo metterci lì con il nostro piccolo kit di attrezzi per metterlo a misura e in questo caso questa cosa non avviene. Il prezzo finale è 690 euro, trovo che sia adeguato rispetto a quello che viene offerto, un ottimo calibro, un bello orologio che si può indossare con disinvoltura e, passatemi il termine, senza troppe pippe mentali, che al giorno d'oggi non fa mai male. Eccoci, spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi l'ho voluto mettere in maniera provocatoria proprio di fronte e di fianco ad un Rolex che ho in casa, quindi non c'entra nulla uno con l'altro, però ovviamente le forme sono quelle, sono diciamo così, sono confrontabili, le forme, la forma è confrontabile e confrontando la forma abbiamo visto la lunetta, abbiamo visto delle cose diverse, non è la copia 1 a 1, come già vi dicevo, anche la cassa delle differenze non solo nella lunetta ma anche nella carriera generale. Ovviamente il colpo d'occhio però porta poi a pensare a quella tipologia di orologi. È stata una scelta secondo me un po' particolare per HTD che di solito ha cercato di fare sempre cose un po' diverse, qui ha cercato forse di trovare quella che poteva essere un compromesso un po' più facile per piacere a più persone. Io devo dirvi, tutto sommato, a me l'orologio piace, è colorato, è simpatico, lo posso indossare con disinvoltura quando sono anche al mare, visto il grado di impermeabilità che ha, è sottile, insomma l'orologio in sé è ben riuscito e sono sicuro che HTD realizzerà in futuro ancora tantissimi orologi che piaceranno a molti di voi. Io vi saluto e vi metto in descrizione il link per andare ad acquistarlo se vi va e se vi piace. Mi raccomando ancora se vi va e se vi piace e non l'avete fatto ancora e siete arrivati fino a qui quindi siete proprio degli eroi, degli appassionati della maratona, mi raccomando fate un bel like e iscrivetevi al canale in modo gratuito per sostenere questo contenuto e tutti quelli che pubblico abitualmente sui vari canali social che vi metto in sovrimpressione così almeno potete anche andare lì, seguirmi, farmi delle domande, scrivermi in privato, fare ciò che vi va e ciò che vi piace, stavo dicendo ciò che vi pa, ciò che vi pa, insomma non suona benissimo. Grazie ragazzi e vi aspetto sempre qui sul mio canale per parlare sempre di quella passione che accomuna tutti noi, l'orologeria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.